Siamo qui davanti all'Istituto di Infermieristica, un istituto che rischia di essere trasferito, una cosa che noi del Movimento 5 Stelle riteniamo veramente dannosa per la città, perché è un'eccellenza, perché è una cosa che ha richiesto un investimento di oltre un milione di euro su tempo. È stato fantastico utilizzarlo durante il tempo di chiusura estiva, ma adesso è ora che le elezioni riprendano e quindi non siamo assolutamente d'accordo con la proposta di Marche Nord di trasferirlo in un altro luogo. In primo luogo chiediamo per quale motivo, pur consapevoli del fatto che un punto vaccinale deve essere all'interno dell'azienda ospedaliera, per quale motivo è necessario utilizzare proprio questo spazio. Questo spazio è stato adibito a sede di studi di un corso di laurea in scienze infermieristiche, grazie a un investimento importante. È tuttora funzionale, perfettamente adatto all'uso per cui è stato destinato, mentre invece per quanto riguarda il punto vaccinale è possibile utilizzare anche altri spazi. Questi spazi ci sono, anche in considerazione del fatto che la vaccinazione non viene fatta, diciamo così, spontaneamente in massa, ma c'è un sistema di prenotazione. Di conseguenza ci sono spazi, ad esempio, ci viene in mente il padiglione I del San Salvatore, che è un padiglione nuovo dove ci sono poliambulatori e dove ci sono ampie sale d'attesa, che potrebbe benissimo in parte essere adibito a punto vaccinale quando non ci sono le visite specialistiche. Per cui ci chiediamo perché è proprio necessario rimanere qua come punto vaccinale e spostare all'università, per la quale poi fra l'altro è stato indetto un bando, e questa è la seconda domanda. Questo bando scade il 30 di agosto e a quanto pare ancora non ci sono offerte. Se questo bando andasse deserto per reperire dei locali che peraltro sarebbero in affitto e quindi avrebbero un costo ulteriore, oltre all'investimento fatto appena due anni fa dalla regione, per la sanità, ci chiediamo cosa succederà. Cioè, se non si trova un altro posto, dove andrà a finire il corso di laurea in scienze infermieristiche? E l'ultima cosa che ci teniamo a dire, mentre questa eccellenza nel nostro territorio, questo corso di laurea che forma dei bravissimi professionisti, anche dal punto di vista umano e della cura a 360 gradi della persona, dovrà continuare ad esistere, il Covid si spera che finirà. Quindi, mentre questa è una situazione contingente, l'università è una situazione permanente che dobbiamo assolutamente difendere e mantenere. Tra l'altro, mi viene anche da dire che il messaggio che viene dato in questo modo è un po' contraddittorio, perché se vogliamo spingere la vaccinazione per superare il prima possibile l'emergenza Covid, così invece diamo l'impressione che la cosa si allungherà e che invece i vaccini non risolveranno la situazione. Spero proprio che non dovremo vaccinarci tutta la vita e che non sia questo il messaggio che vogliamo dare ai cittadini. Ultimo argomento è quello dell'intitolazione a Gino Strada. Si sta parlando di edifici sociosanitari o strade cittadine. Questo è appunto uno dei luoghi che potrebbe rispondere a questo tributo. Abbiamo raccolto l'invito del sindaco che ha manifestato questa volontà di intitolare una parte della città a Gino Strada, recentemente scomparso. Siccome la legge sulla toponomastica impedisce di intitolare una strada troppo presto, prima dei dieci anni dal decesso, ci sembrava interessante cogliere l'occasione per intitolare lì questa cosa qua. Veramente ci sembra il modo migliore per onorare la memoria di un medico, di una persona coraggiosa, di uno che in ultima istanza ha dato sempre una mano a chi aveva bisogno. E chissà che non dia una mano anche a noi per mantenere questo centro universitario così importante. Grazie. 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 Grazie.